Era il 3 novembre del 2014 quando a Chieti, alla presenza dell'allora sottosegretario e la presidenza del Consiglio, Graziano Del Rio, fu sottoscritto un accordo definito storico tra l'Agenzia del Demanio e gli enti pubblici per il piano di razionalizzazione delle sedi delle amministrazioni statali tiatine. In questi giorni stiamo vivendo la fine di questo cantiere dello scientifico che salva in qualche modo la faccia a questa grande progettazione che era una svolta per la città di Chieti ed è stata prospettata come la prima trasformazione di una caserma militare in edifici pubblici per far sì che lo Stato risparmiasse soldi dai fitti passivi. Una firma che avrebbe dovuto far risparmiare circa 2 milioni di euro sui canoni di locazione e destinare 15 milioni di euro per le ristrutturazioni dell'ex caserma Berardi di Chieti. I 23 mila metri quadrati dell'ex caserma avrebbero dovuto ospitare il pollo logistico amministrativo, una cittadella dei servizi all'interno della quale realizzare la nuova sede del liceo scientifico Filippo Masci con attigua palestra. L'edificio contenente il tesoro, l'intendenza di finanza, il demanio, i monopoli e sicuramente un ampio piano terra per i servizi comunali con la sede della Polizia Municipale, l'Agenzia delle Entrate con tutte le sue funzioni comprese il Catasto e l'Ufficio Ipotecario. Una palazzina per gli alloggi destinati ai quadri permanenti carabinieri in servizio presso la Compagnia di Chieti, il Comando Provinciale, la Compagnia Carabinieri, la Stazione Carabinieri di Chieti Centro ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza. A distanza di circa dieci anni, denuncia Mario Colantonio, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, è stato riconsegnato soltanto il liceo scientifico Filippo Masci, tra l'altro senza la palestra. Sta di fatto che questi affitti si continuano a pagare, gli affitti sono anche lievitati in molte delle strutture dove sono ancora collocate queste funzioni pubbliche. Io dal mio punto di vista, cioè dalla mia piccola azione politica, vorrei portare questo caso proprio a livello nazionale, all'interesse del Ministro delle Finanze Attuali e del Ministro delle Infrastrutture. Ci si lamenta sempre dei dinosauri edilizi, delle opere non terminate. Vorrei sapere che fino hanno fatto i 5 milioni errotti di questa struttura, che non ha manco realizzato le fondazioni, come vorrei sapere che fino hanno fatto del pacchetto economico che avevano stanziato inizialmente i soldi residui o se ne hanno messe altre. Cioè questa è un'operazione verità che a noi c'è dovuta, c'è dovuta come amministratori sani e laboriosi, ma c'è dovuta soprattutto per la cittadinanza di Chieti, per i cittadini di Chieti che hanno per anni visto e apprezzato questo tipo di recupero urbano.